Sto facendo gli specchietti, ragazzi, stai facendo gli specchietti, abbiamo andato qua. Io sto pensando alla manovra economica, al decreto sicurezza e immigrazione. Ci sono problemi sul decreto? Il problema però è fare un consiglio dei ministri senza il vicepresidente del consiglio. Mi sembrava di votarmi da solo il mio provvedimento. Quindi il decreto è pronto, invece di passare oggi passa lunedì, ma almeno ci sono sia Conte che Di Maio e l'Italia farà un bel passo in avanti nel nome della civiltà, delle regole, dell'ordine, della sicurezza, della lotta alla mafia e al terrorismo. Non so, aumenterete l'IVA? Non ho tempo per pensare a questo, l'IVA sicuramente non ho meno tempo. Ok, grazie. Ci guardo un attimo, l'attimo.